Salve a tutti e buon pomeriggio ragazzi! Questa sarà una puntata straordinaria per fare un annuncio veramente importante. Erano pensate 4 anni che aspettavo di farlo e finalmente è arrivato questo momento, tanto atteso. Infatti, pochi minuti fa, quindi questa è una notizia proprio indirettissima possiamo dire, hanno annunciato i remake di terza generazione dei Pokémon, naturalmente stiamo parlando, che si chiameranno Pokémon Zaffiro Alpha e Pokémon Rubino Omega o Omega, come volete dirlo. Allora, di questi due videogiochi purtroppo non si sa molto, non è stata mostrata neanche un'immagine, ma quello che conta sono i pochi dati che abbiamo ricevuto durante questa mini conferenza di presentazione dei due videogiochi. Iniziamo con la data d'uscita. Data d'uscita che è mondiale, proprio come quella di Pokémon X e Pokémon Y, ed è un generico novembre 2014. Quindi, a quanto pare, è andata forte l'uscita dei precedenti videogiochi di sesta generazione ambientati a Kalos, e quindi hanno deciso, anche questa volta, di far uscire in contemporanea in tutto il mondo, anche questi due videogiochi. Ovviamente, come sapete, la storia sarà quella classica, ma, come si può anche vedere dal trailer che vi metterò io alla fine del video, ci saranno alcuni forti elementi di novità. Quindi, aspettatevi di tutto. Adesso direi di analizzare le due box art, le due custodie, per usare un termine italiano. La prima, troviamo il nostro Kyogre, che a quanto pare è illuminato come da una qualche energia interna particolare, che magari potrebbe proprio avere a che fare con il nuovo gioco. Lo troviamo, ovviamente, nel suo ambiente predefinito, cioè il mare, come mi sembra abbastanza chiaro. E questo è quanto. Poi, invece, troviamo Graudon, su quella di Rubino Omega, che si trova sulle pendici di un vulcano, che, a quanto pare, è in eruzione, e anche lui ha questo strano, diciamo, colorito, un po' vivace, quasi da evidenziatore, se vogliamo usare un po' un paragone un po' forzato. Ma adesso, leggiamo un pochino il comunicato che Nintendo ci ha riservato. Siamo lieti di annunciare Pokémon Rubino Omega e Pokémon Zaffiro Alpha per le console della famiglia Nintendo 3DS. Preparati a vivere un'avventura straordinaria insieme ai Pokémon in un mondo tutto da esplorare. I fan dei Pokémon ricordano sicuramente con nostalgia Pokémon versione Rubino e Pokémon versione Zaffiro, usciti per Game Boy Advance nel 2003. Ora, una nuova generazione di giocatori potrà rivivere quell'avventura con nuovi emozionanti sviluppi grazie a Pokémon Rubino Omega e Pokémon Zaffiro Alpha. Preparati all'uscita mondiale di questi due videogiochi in novembre 2014. E questo era quanto. Naturalmente, sul mio canale seguiranno numerosi aggiornamenti per quanto riguarda questi due videogiochi, quindi aspettatevi nuove puntate che magari irromperanno, diciamo, sulla solita routine dei video durante, diciamo, l'estate e questa fine di primavera. Quindi io vi lascio al trailer che è abbastanza breve e non è che si dica poi così tanto, ma ve lo faccio comunque vedere per dovere di cronaca. e vi do appuntamento con, probabilmente, gli speciali per le tre, perché, secondo me, la prossima volta sarà proprio in quell'occasione che verranno svelate ulteriori novità, tra cui speriamo almeno qualche immagine. Quindi vi lascio e alla prossima! Peggy 7 Peggy 7 Peggy 7